A Bellarigia Marina si sta benissimo! Siamo prontissimi, le spiagge sono pronte, il mare c'è, il sole pieno, si sta benissimo, noi vi aspettiamo qui a Bellarigia Marina per trascorrere la vostra vacanza in relax e in divertimento. Nella Romagna ci piace il sole, il mare, l'amicizia, la buona cucina. E la Romagna è un posto dove si sta benissimo. Io ho 25 anni e vengo da quando ne ho uno. La cosa che mi piace di più della Romagna è il cibo perché si mangia benissimo, poi a me è il cuore che mi nega questo posto. Ciao!